Tu ci vai, sui porno? Quando ero ragazzino, adesso ho fatto mia moglie Ma ha 52 anni, ancora devo smalettarmi Ma mi chiamo un seghino, te lo farai, no? Ma io ho mia moglie Ma io ho mia moglie, ma ogni tanto un seghino me lo faccio Vai sul porno? Ma certo Ma non ci credo Io sono anche iscritto a dei siti specifici Delle categorie Perché ci si iscrive, scusa? C'è pago degli abbonamenti Perché mi piacciono delle categorie specifiche E ci sono dei siti che pago Certo Io che volevo essere fede Bippalo, bippalo, bippalo Si chiama, il mio preferito si chiama E' gente che fa Muschio selvaggio Ciao ragazzi, benvenuti a Muschio selvaggio Dal ritratto della salute Oggi terrò gli occhiali ragazzi Perché ho appena fatto due trasfusioni Ho poco sangue in circolo Quindi faccio cagare E quindi niente, mi sento più a mio agio con gli occhiali Allora, oggi è una puntata tosta Devo dire, è una puntata tosta Perché ho deciso Ho detto Voglio fare questa puntata E ho faticato a trovare una controparte A questo dibattito Perché Quando ho fatto il nome Di Mario Adinolfi Tantissimi attivisti e politici Appartenenti al mondo Dei diritti civili E della rappresentanza LGBTQ+, Mi hanno detto di no Motivando che Non vogliono dare visibilità A Mario Adinolfi Sostanzialmente Io Diciamo Rispetto questa Questa visione Ma io credo Che sia interessante Fare un dibattito E sia interessante Dibattere Con chi ha idee diverse Dalle nostre E quindi Con noi Mario Adinolfi E Ketty La Torre Avvocato e attivista Un applauso amici Wow Che non vuole dare visibilità A Mario Adinolfi È venuto qui a parlare No beh Cioè Innanzitutto Bravi tutti e due Che vi siete messi in gioco Perché comunque Non è Ho scoperto Che non è da tutti Diciamo È una puntata Un po' insolita Perché di solito A questo podcast Si intervistano le persone Siccome Ormai di podcast Ce ne sono A bizzeffe Che intervistano persone Bisogna anche un po' E non siamo in America Dove ci sono Milioni di personaggi Da intervistare Bisogna anche un po' Cambiare direzione E quindi Voglio aprire anche un po' Ai dibattiti E Secondo me Questo era un dibattito Interessante da portare Come state intanto? Ma come stai tu? Io non a merda Che sei palliduccio E con gli occhiali scuri Fammi toccare Già i coglioni Mario No bene Dai Dai bene È la prima puntata Che conduci con gli occhiali Quindi dobbiamo spiegare Eh no L'avevo già fatta una anni fa Ma ero ubriaco Perché ero ubriaco L'avevano picchiato? No 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 Ero solo sbroncio Ero mezzo sbronzo Comunque la questione Del non dare visibilità È sempre Quando temi Di non riuscire A reggere il dibattito Perché con altri esponenti Diciamo Della mia area Avrebbero tranquillamente Dibattuto Non vogliono Dibattere con me Perché sanno Che con me È un pochino più complicato Far valere Le ragioni Della prepotenza Come bisogna cercare Di ragionare E se si ragiona Poi si nota Che Non è obbligatorio Darsi addosso Con gli schemi Abituali Del dibattito Ma si può Provare Comunque Mario C'hai un ego Proporzionale Alla tua presenza Stazza Vuoi dire stazza Sì veramente Dammi un po' Di autostima Mario Dammi un pochino Perché non sono venuti Perché non vogliono venire Allora Diciamo i nomi Alessandro Zan E compagnia D'anni È una posizione politica Perché sanno Che con me è complicato Non vanno Nemmeno Ai dibattiti Con Pillon No vanno Con Pillon Vai su Youtube Zan Pillon Gandolfini Zan Cirinna Non è tanto Complicato Di battere Né con Pillon Né con Gandolfini Comunque Io non sono un agnello Sacrificale Ho accettato Questo dibattito Perché penso Che possiamo Discutere E spiegare Perché abbiamo Le posizioni Su alcuni argomenti Sì sì Al netto di ciò Bisogna essere onesti Intellettualmente E io Devo fare Devo fare Quello su per parte Sai devo dire Che le motivazioni Che mi sono state Portate sul tavolo Sono diverse Da quelle Dette da Mario Ma ovviamente Il comportamento Avvalora anche La tesi di Mario Questo bisogna Bisogna dirlo Bisogna essere onesti Nel dirlo Nell'essere onesti Diciamo pure Che non è vero Che il giudice È imparziale No no Assolutamente Io ho idee Se la giochiamo Col giudice Diciamo di parte Infatti Ho detto Devo giocare La parte Di quello imparziale Ma io ho idee Nell'essere Opposte a quelle Di Mario E aderenti A quella di Katie Quindi insomma Ma sì Aderenti a quella di Katie Magari Chi lo sa Ma sì Dai non vi nascondete Non giochiamo A carte Siamo amici Sono anche un pocherista Siamo amici In blef Col pocherista Poi parliamo Anche del pocherista Ma secondo me Non nego neanche il fatto Che Katie È una mia grande amica Vi conoscete Perché noi ci siamo vissi Per la prima volta Prima volta Quindi giochiamo A carte scoperte Che è la cosa migliore Da fare Secondo me Quindi partiamo Dall'elefante Nella stanza Ragazzi Vi chiederei Anzi chiederei Innanzitutto A te Mario Come vedi L'omosessualità E la transessualità Da politico Da uomo E da credente Io non ho Il tema Della transessualità O dell'omosessualità Della mia agenda Io da politico Da uomo E da credente Ho il tema Della famiglia Nella mia agenda E sono il leader Del popolo Della famiglia Da uomo Sono un papà Di tre ragazze Quindi ne seguo L'evoluzione In un mondo Sempre più complicato Ho delle idee Molto radicate Su ciò che fa Bene E ciò che fa Male Non ho Un giudizio Sui comportamenti Umani Io non faccio Il prete Qualcuno confonde Adinolfi Con i preti Io non faccio Il prete Io sono Peccatore Un divorziato Uno che ha fatto Di tutto Nella vita Il racconto Il racconto Del latinolfi Bigotto Non regge Con chiunque Mi conosca Minimamente Io mi preoccupo Di ciò che fa stare Bene La società Rispetto a ciò Che secondo me Rischia di peggiorare Le condizioni Della società In particolare Dei più fragili Questo è la mia Il mio campo Di interesse E dentro questo Perché quello Che io faccio Poi quotidianamente Da quando mi alza Quando vado a dormire Il tema fondamentale Per me è la famiglia E ho risposto Alla tua Diciamo Chiamata Al tuo invito Solo per una ragione Perché in realtà Le nostre tesi Lo dico con chiarezza Le mie Le tue Le tue Quelle di Cati Sono irriducibili E inconciliabili Non possiamo conciliare Non troveremo mai Un punto Ma quello Che mi interessa In particolare Della tua esperienza È che a tuo modo Anche per te La proposizione Della famiglia È un elemento Cruciale Centrale Ti viene persino Rimproverato Brutalmente Noi abbiamo Noi tre Un'unica Cosa che ci unisce Vediamo se la indovinate Siamo sul cavolo A Selvaggia Lucarelli Tutti e tre Che è l'unica cosa Che ci unisce Ora perché E guarda quante volte Ti viene rimproverato L'uso dei figli Dell'esposizione familiare Qualche volta Da fastidio persino a me La modalità Con cui viene gestita Ne potremmo discutere Ecco lì sarebbe Un tema Ma se vuoi Possiamo discutere Ma So Per certo Perché lo vedo A pelle Negli occhi Nella verità Delle cose Che ti butteresti Nel fuoco E secondo me Questa È la caratteristica Che rende diversa La famiglia Per come la concepisco Io Per quello che secondo me È Da tutte le altre Costruzioni sociali Non lo faresti Per Il miglior amico No Per tuo figlio In difficoltà Ti butti dalla torre Certo Quindi questa differenza Che per me È Nel cuore dell'uomo Naturale Se volete Nella mia dimensione Di fede Messa lì da Dio Perché quello È il progetto di Dio Per l'uomo Per chi non crede La valutiamo Come la valutite Dal punto di vista Puramente istintivo Questo elemento Sradicarlo Da una dimensione sociale Potrebbe Rappresentare Un affatto Estremamente pericoloso Cosa intendi Con sradicarlo Da una dimensione sociale Quando tu provi a dire Che tutto è famiglia Per me Non è tutto famiglia Veniamo Da un'estate In cui Cati per esempio Ha sostenuto insieme Alla mia amica Perché le devo dire Io Michela Murgia Ho avuto la fortuna Di conoscerla Perché facemmo insieme Delle battaglie politiche Da cattolici All'interno del partito democratico Figuriamoci un po' Quando Cati non la conosceva proprio E noi abbiamo fatto Un percorso No la conosceva Anche quando era Nazione cattolica E noi facemmo insieme Le primarie del PD In una dimensione Molto eroica E Michela Poi litighammo Brutalmente Perché mi proponeva Questo schema Secondo me Assurdo Che è stato Un tema dell'estate Della famiglia queer Che cos'è la famiglia queer Una famiglia Dove non ci sono I legami di sangue Ci sono dei legami Che vengono scelti Dall'individuo Io mi scelgo Io mi scelgo Tre mariti Due mogli Quattro figli D'anima Rinusco tutti Dentro questo Assamble Affettivo Vado a sposarmi Dicendo che il matrimonio È un evento Luttuoso E del mesozoico Perché in realtà Il futuro È la famiglia queer E io li vedo L'attacco ideologico Secondo me Si vuole dire Che ciò che È famiglia naturale Infatti Michela Aveva sviluppato Anche un'astia Proprio fisico Quasi per i bambini Ciò che è famiglia naturale È male Questa non è un'idea Di Michela È un'idea che c'è Nella società Anche Roberto Saviano Figlio dell'esperienza Della lotta Alla camorra Dice La camorra Si radica Sull'idea di famiglia Se cancellassimo L'idea di famiglia Non ci sarebbero Le mafie Ecco Io sono L'alternativa A tutta questa roba qua E mi piace Discutere con Federico Perché pur essendo Ripeto Io riducibile Anche con Katie In realtà Anche con Katie Perché Katie È l'ispiratrice Probabilmente Di quell'evoluzione Sulla famiglia queer E anche giuridicamente La sostiene E per me È insostenibile Però ripeto Queste sarebbero cose Di cui non ci sarebbe Discussione possibile Partiamo da punti di vista Completamente opposti Chiaro Però siccome Che alla fine Un qualche barlume Di ragionevolezza Nell'istintualità Di un papà Perché poi Questo è un altro elemento Che ci accomuna Nasce E ti fa capire Alcune cose Allora vengo qui Le spiego Sapendo Come diceva Alcide De Gasperi Che insomma Alla conferenza di pace Dopo la seconda guerra mondiale Che solo la vostra cortesia Diciamo così Posso aspettarmi E null'altro Se non l'assalto Dei nemici Poi Li vedremo anche Nei commenti Ma non credo Guarda Sai che credo Invece su questo Io credo Che nei commenti È più probabile Che ci siano persone Che diano ragione a te Però io non ho ancora detto niente E infatti però Hai parlato tantissimo Hai esposto Hai esposto Il tuo pensiero Hai menzionato anche Posso anche chiedere Persino un bicchiere d'acqua Alla feroce Ma certamente Ma certamente E Hai citato anche E si sentissia Posso dire Bravissima Sì sì Deve un'ora Bravissima E hai citato anche Michela Hai citato la famiglia queer Quindi lascio Passo la parola a Katie E comunque Non hai molto Cioè ho fatto una domanda Minchia Ma hai fatto un In realtà In realtà non ha risposto Esatto Ma è tipico dei politici Allora vorrei dire una cosa Che in tutto quello Che tu hai detto Ci sono delle cose Che io non mi spiego La prima è Come fai a Presupporre Che il tuo amore Di padre O da padre Sia più forte Dell'amore di Qualcun altro Che magari Non ha Un figlio O una figlia Cioè noi dovremmo Per supporre Che tutte le persone Che non si sono sposate Non hanno figli Non hanno legami Non hanno più genitori Non possono provare Quel tipo d'amore Che tu assumi Essere tipico Solo dei genitori Io penso che Come dire Nessuno possa Misurare Il grado D'amore Ma posso dirti Con certezza Che io Per alcune persone Con le quali Non ho un legame Di sangue Mi butterei Nel fuoco E posso dire Con tanta certezza Che nella mia vita Ho preso Delle enormi Fregature Da familiari E ho preso Anche una buona dose Di violenza In ambito familiare Cosa che non ho preso Fuori Dalla famiglia Quindi Questa è la prima Domanda che ti faccio La seconda domanda Che ti faccio è Quindi perché assumi Che Quella roba lì Solo per tuo figlio Ti butterei E tutti quelli Che non hanno figli Cioè io che non ho figli Non sono capace Di provare Un amore grande O addirittura Di sentire Che è un legame Poi ti faccio anche Un altro Ti mando una suggestione In Italia ci sono 5,4 milioni Di persone fuori sede Io sono una di quelle Sono cresciuta A Bologna Da quando avevo 18 anni Mia madre e mio padre Sono rimasti Nel paesino In Sicilia Ma secondo te Io C'è la famiglia Non è che me la sono scelta Quando stavo male Quando mi veniva La febbre a 40 Quando avevo bisogno Quando mi embriacavano Stavo in piedi Cioè chi è che mi veniva in soccorso Quelle persone Che costituiscono poi Un nucleo Che lo puoi chiamare Come vuoi Gli puoi dare il nome Che vuoi Ma in quel momento Stanno anche sostituendo O anche affiancando Perché non è che devono essere Per forza in antitesi Io ho una famiglia biologica E ho anche una famiglia Di scelta Chiamiamola queer Chiamiamola La famiglia Con cui passo Gran parte del mio tempo Che mi accompagna Quando sono sola Sono triste Oggi sono depressa Andiamo a mangiare una pizza Non c'ho mia madre Lo sapete Quante persone Non hanno più i genitori E ti faccio anche Un'altra domanda Secondo i dati Istat Quanti sono Il numero di famiglie Tradizionali in Italia Qual è la percentuale Delle famiglie tradizionali La conosci? 29 milioni di persone Sono regolarmente sposate Allevano 15 milioni di figli Minorenni O maggiorenni Non autosufficienti Stanno a curare 3,8 milioni di disabili Ogni anno Si sposano In questo paese Nonostante l'istituto del matrimonio Si è devastato 200 mila persone Fanno 400 mila figli Sono pochissimi Quante se ne separano? Il numero di unioni civile È 2 mila Il rapporto è 1 a mille Questi sono i dati Tu mi devi dire Quante Voi parlai di famiglie tradizionali Questi sono i dati I dati sono anche Se mi hai chiesti i dati I dati sono questi Quante persone non si sposano Eterosessuali? Ripeto L'Italia è fatta così 29 milioni Più 15 Più 4 Sommali E vedi come è fatta l'Italia L'Italia è fatta da 58 milioni Di cittadini residenti Ci sono dei numeri Che puoi tranquillamente Verificare se siano veri o no Sono verissimi Lì dentro Funziona così Questi sono i numeri Le famiglie La famiglia è Tradizionali Le famiglie tradizionali Senza paragone Maggioranza Dell'organizzazione sociale Non è vero Perché i dati Istat Dicono che le famiglie Tradizionali Sono il 24% Ma non è vero Ma che dici? Ho appena detto Dei numeri Che sono senza Tu non devi prendere I dati dell'anno Tu stai citando I dati dell'anno Tu devi vedere I dati complessivi Come è fatta La società italiana Tu disconosci Che ci sono un sacco di persone Che stanno insieme Io ti dico Ancora oggi Tutto il casino Che stiamo facendo Per cui io vengo chiamato A fare i dibattiti E per sta roba Delle famiglie Arcobalino Sempre l'altra roba Ma tutt'oggi Anche quest'anno Che è un anno Come dire Non certo L'anno del signore Diciamo Dei film di Luigi Magni Si sono sposati Fatti quasi 200.000 matrimoni E sono nati quasi 400.000 figli La gente si sposa normalmente Questi sono Questi sono 1.000 2.000 Fanno le unioni civili Se questi dati sono Ma certo C'è anche il divorzio Detto che io Sono divorziato Figura se non so Che esiste il divorzio Ma i dati sono questi Scusatemi Intervengo sommessamente A fare il dibattito Dei numeri Tanto secondo me Non lo sciamo Mi sono stati chiesti Quindi se me li chiedi Rapporte 1 a 1.000 200.000 matrimoni Dimmi che cosa vuoi sapere Te lo trovo io Il numero Delle separazioni E certo È ovvio Che significa Il numero Dei matrimoni E il numero Delle separazioni Nel 2022 È stato pressoché Uguale Pressoché uguale 29 milioni Sono ancora Le famiglie di questo paese Non puoi fare Quello che vuoi Fai domanda Ovunque Quante sono le famiglie Unite in matrimonio Sono i numeri Ma tu fai una battaglia Su una cosa Che è in crisi Perché se ogni anno Se sposano Cosa dobbiamo fare Rispetto alla crisi Ma scusami Se tu mi dici Che è in crisi La mia risposta È bene È in crisi Però siccome sono Mamma Papà Figli Forse diamo una mano A quella mamma A quel papà A quei figli Non basta più Perché se 200 mila Si sposano E 200 mila Ogni anno divorziano Allora 80 mila divorziano Ma comunque Quest'anno 79 mila Guarda i suoi dati Sono proprio Una macchina da guerra Lo faccio di mestiere Questa roba qua Non giocate sui numeri Con me Ci scrivo i libri C'è stato pure Il 5% Dell'incremento I miei libri Posso fare una domanda Magari anche stupida Cioè nel senso Nessuno mette in dubbio Il matrimonio Tradizionale Io quello che non ho capito Il matrimonio Il matrimonio L'ordinamento Della Repubblica italiana Io quello che non ho capito Mario è Che cazzo di fastidio Ti dà Se Michela Murgia Ha fatto la famiglia Qui Ma quante volte Me l'avranno fatta Secondo questa domanda Che c'è Lo so però E domanda stupida è E come dire Ogni volta che fai Il dibattito Sull'aborto Ma perché sei contro l'aborto Lascia liberi Di abortire E tu non abortisci Giusto? E beh mi sembra ragionevole Ma il mio punto di vista In cui faticata a entrare E che tu non devi abortire È che l'aborto Sia un omicidio E allora equivale A dire Va bene Ammazzare E se vuoi ammazzare Ammazza Poi io non lo farò Non è tutto uguale Dal mio punto di vista Dal mio punto di vista C'è una differenza E io Però lo capisci Però il matrimonio Sostengo questa differenza Il matrimonio Secondo la legge Dello Stato È sacro Invece il diritto All'aborto Secondo una legge Dello Stato È un omicidio Ma tu te rendi conto? No Una legge Dello Stato Non è un omicidio Si può fare E appunto Però non puoi dire Che il matrimonio È diversa Dalla legge Dello Stato Perché lo dice pure La legge Dello Stato No Non ho detto Il matrimonio È sacro Perché non ho mai Affermata questa cosa Ragazzi Le mie frasi Sono limpide Tu fai l'avvocato No? Ma io ti ascolto Sono andati tutti a processo Pillon Atematica Andorfini Perché? Perché Sono miei amici Perché li prendete E li sparate addosso Io non ci vado E per questo Non vengono a confronto Con me Perché io so Quello che dico E le mie idee Le potete contestare Potete dire Che è sciarpame Le potete buttare E dire Sei appartenente A un'era Che verrà travolta Dalla nostra rivoluzione Benissimo Ma non potete dire Che sono false Questa è l'unica cosa Che non si può dire Io dico Frasi precise Con parole precise Ma Nel senso Dire che l'aborto È un omicidio Io posso contestare Tu puoi dire Per me è una super stupidaggine Ah ok Posso contestare E dire Per me guarda Cioè È proprio Un'affermazione Vuoi dire Io ho detto Il matrimonio è sacro Perché è nella legge Perché non lo dico Non lo penso Non lo affermo Non è scritto Nessuna parte Nelle mie articoli È un omicidio Perché la legge Dice che l'aborto Non è un omicidio Anzi È un diritto Consentito Dalla nostra legge E allora Sotto il terzo rai Che era illegale Fare Eh vabbè Ma minchia Mario Ma che parallelismo Vabbè Ma che parallelismo Iniquo Ma scusami Il concetto Che la legge Sia sacra È molto pericoloso Datemi letto Io vorrei È sacro ciò che è giusto Vorrei adentrarmi su Ciò che è giusto Non lo sabisci tu E non lo sabisco Lo dobbiamo accettare Ma al resto Faticosamente Ancorato Alla idea Che esista Un concetto Di giustizia Che va al di là Dell'idea di norma Figurati se Ma figurati se Non lo penso io Vabbè Questo dovremmo quasi Essere un indico Siccome Mario Comunque a me Non mi ha risposto Io lo chiedo a te Tu come la vedi L'omosessualità La transessualità Da donna La risposta è semplice Non me ne frega niente Vabbè ho capito Molto semplice Quello che uno fa Sotto Quello è Fedez In realtà è gay Non me ne frega niente Fedez Cambia sesso Non me ne frega niente Tuo figlio Fa il percorso Di cambiamento di sesso Alt Voglio le leggi Voglio capire Voglio avere le norme Perché se va bene tutto La legge tollera tutto Come dicevo prima Poi la legge Può tollerare Roba intollerabile Mario Ci arriviamo Ci arriviamo a quello Io adesso Ti volevo chiedere Che cos'è per te Come vedi L'omosessualità E la transessualità Da donna No binary Laica E anche amica Di un cardinale Il cardinale Zoppi Presidente Zuppi Zuppi Hai ragione Scusami Te l'avevo pure spiegato Ma non ti far indottrinare Non ti far indottrinare Resisti Federico Quando uno parla Quando uno parla Della propria identità Non sta indottrinando nessuno Sta parlando di sé A me non me ne frega niente Come ti senti tu Non me ne frega niente Come ti senti tu Me ne frega che tu Rispetti come mi sento io Io sono una persona Non binaria E non indottrino nessuno Eh lui si Perché hai detto Non deve dire Non binaria Parlava di me Parlava di me Se lei c'ha voglia Di farsi chiamare Non binaria Io di farsi dire Non binaria La definisci come Cazzo mi pare a me Perché la mia identità Eh no Perché io la tua identità Non la definisco Come mi pare a me La definisco come pare a te Tu dici che vuoi essere Chiamato al maschile E io ti chiamo al maschile E ho rispettato perfino Giorgia Meloni Che ha detto che vuole essere Chiamato al presidente Del consiglio Lo rispetto È la sua identità E voglio essere rispettato Nella mia identità Detto questo L'omosessualità È uno degli orientamenti sessuali Sono almeno quattro Cioè andato di fatto Non è che Cioè le persone Che sono attratte Effettivamente Sessualmente Da persone del proprio Stesso sesso Sono da meno Sono numericamente Meno delle persone Eterosessuali Ma esistiamo Viviamo Viviamo le vite fuori Non dobbiamo farlo Solo nelle nostre Stanze da letto Perché l'orientamento Sessuale riguarda Tutte le sfere Della nostra vita La transessualità O il transgenderismo Hanno a che fare Con l'identità di genere Esistono delle persone Che anche se nascono Con un genere Assegnato alla nascita Quindi con un sesso Biologico Di un certo tipo Non si sentono Identificate In quel sesso biologico Una volta si diceva Sono nato In un corpo sbagliato Ora ovviamente Si chiama Percorso di affermazione Di genere Le parole sono cambiate Però il concetto È sempre questo Ci sono delle persone Che nascono Con degli organi genitali E con un sesso biologico Ma non si sentono Ma non si sentono Appartenere A quel sesso biologico C'è un dato di fatto Sono persone Esistono Non è che le possiamo Cancellare Manco possiamo dire Che queste persone Vivendo la loro vita Stanno indottrinando Altre persone Sì anch'io non riesco A capire questa questione Dell'indottrinamento Mario onestamente Guarda io ammetto La mia ignoranza Anche con Michela Io ho fatto una puntata Dove abbiamo parlato Di questi argomenti Io ammetto di essere Ignorante Su alcune cose Tanto che Ho fatto questo errore adesso Ti accetti Che quella sia la teoria giusta Che si chiama dottrina però No no Io accetto Il fatto che lei Ti fai riprendere E dice quello che ti dice Leggi No accetto Il fatto che lei Poi ti dico quello che penso io Che fai Ma nel momento in cui parla Della sua identità Perché dovrebbe darmi fastidio Dovrei sentirmi indottrinato Da questo Cioè è solo questo Che non comprendo Perché l'elemento Della dottrina gender È purtroppo Un elemento pervasivo Della nostra società Se Prima Erano Zero I minorenni Che Alcareggi Facevano La triptorelina Per bloccare la pubertà E adesso Sono diventati 250 O È un'epidemia Improvvisamente La disforia di genere Dei bambini È diventata Una questione Che improvvisamente Ha piccato il fuoco Come fosse il covid Oppure Le condizioni Ambientali Dottrinali Di indottrinamento Dentro casa Dentro scuola Nel mio Nel mio movimento Il simbolo Di mamma Papà E figli È accompagnato Alla scritta No gender Nelle scuole Perché nelle scuole Ti vogliono spiegare Però non c'è in questo momento Quindi tu stai attribuendo Questo aumento Della disforia di genere Si sta parlando Perché la stai dicendo In una maniera Così grossolana E parliamo della salute Parliamo della salute Anche mentale Di bambini minori E questo è il problema E la stai dicendo Un tanto Questo è il problema Perché se tu avessi fatto Avessi letto Una volta Nella tua vita Delle ricerche Evidentemente Su questo tema Le vostre ricerche I vostri temi Le vostre dottrine E io le rifiuto Dovete accettare Che ci sia Un segmento Della società Che la vostra roba La rifiuta Perché Silvana Mari Che è una Paccottiglia Silvana Mari Che è stata cancellata Da qualsiasi ordine Dei medici È una donna coraggiosa Esatto Il mio riferimento È l'associazione Di psichiatria mondiale E quella italiana Allora I dati dicono questo Tanti dati I dati già hai dimostrato Che i cd Da Jerry Picking Come ti dicono Te i scegli E te i tiri via I dati Ognuno può scegliere Fala parlare Mario Perché sono passati Da 0 a 250 Che non è vero Come non è vero Non è vero Perché Prima erano 20 Poi 30 Poi 50 Ogni anno Prima erano 0 10 anni fa erano 0 Eh beh Ti dici poco Non c'era il servizio È ovvio Se non c'è il servizio Non puoi neanche constatarlo Il servizio Che segue Le persone Minori Con adiuvato E coordinato Dalla dottoressa Ristori C'è È ufficiale Da 6 anni Prima non era strutturato I bambini Le bambine Si chiama Transessualità primaria Esistevano da sempre Tant'è vero Che se tu chiedi Al target Delle persone trans Che oggi hanno 50 60 E anche 70 anni A partire da Porpora Marcasciano Fino a La buonanima Di Marcella Di Folco Tutte queste persone Trans Che hanno 50 60 70 anni Vivono la loro Transessualità Da una vita Ti dicono Ti dicono che già Quando avevano 4 5 anni Si sentivano Delle bambine È chiaro che 50 anni fa Manco esisteva 6 anni fa Il servizio Nemmeno esisteva Non si parlava Di transessualità Primaria Non si parlava Di questo tema Quindi è normalissimo Che con Oh io la prima persona Trans F2M Mario Che ho visto Avevo 22 anni Si chiamava Leslie Feinberg Ed era un attivista Americano Io non avevo mai visto Un maschio Transessuale Fino al 2002 Tu dici Ma come non esistevano Non c'erano Non si vedevano Le persone Però non è che Vuol dire che Non è che non esistevano Non c'erano persone trans Ma non esisteva La chirurgia Non esisteva Il servizio Mano a mano Che si strutturano Servizi E evidentemente Nel dibattito pubblico Anche si rappresentano Questi casi Altri bambini E altre bambine Cominciano a Avanzare Ma c'è sempre stato Cioè come dire Gli omosessuali Adesso i ragazzi Sono tutti bisessuali Perché adesso Si parla con molta Più frequenza Di sessualità Fluida E per mia nipote Che ha 16 anni Non so quanti anni Ha la tua figlia Più grande Ma mia nipote Che ha 16 anni E mio nipote Che ne hanno 11 Per loro La bisessualità È la cosa più normale Del mondo Cioè basta Evolve la società Tutto qui No c'è un tema Sicuramente Su cui secondo me Abbiamo tre posizioni Completamente diverse Che è Il fatto di Quando compiere Le azioni Mediche Sui bambini Che hanno Disforia di genere Perché Per esempio E qui Premetto una cosa Che gira sul web Gira sul web Forse lei L'hai anche pubblicata Tu Mario Credo Una diretta Fatta Con me E Alessandro Zanni In cui Alessandro Zanni Asserisce che Lui farebbe fare La transizione Di genere A Bambini minorenni E io in quel video Annuisco In quella diretta Io Ci crediate o meno Per l'amor di Dio Io quel passaggio Lì me l'ero proprio perso Io per esempio Su questa cosa Non sono d'accordo Cioè io Sono d'accordo Per esempio Sul seguire Un bambino Che presenta Una disforia di genere E accompagnarlo Ad una decisione Che sia Che lo accompagni Fino alla maggior età Per esempio Che ti so Avere una posizione Per esempio Completamente diversa Ma ho una posizione Diversa Attenzione E su questo Vorrei che fosse chiaro Allora io sono un avvocato E la prima volta Che ho dovuto Accompagnare Al percorso di transizione Di genere Che lo ricordo Si fa davanti a un giudice Quindi non è che lo decidiamo Io Te Lui Se siamo d'accordo o no Si fa In centri specializzati E poi si va davanti a un giudice Che emette una sentenza La prima volta Che è venuta da me Una ragazza Che aveva 16 anni Io mi sono interrogato Ho detto Ma io Rispetto a questa cosa qua Sono pronta Ad assistere A una persona Di 16 anni E se poi cambia idea Cioè quindi Non è che io Voglio dire Non ho dentro di me Un dibattito Su questi temi Era Dieci anni fa Ancora si parlava Pochissimo Di minori Transgender E io mi ricordo Che sono andata In Sardegna Ho incontrato L'equip Ho incontrato La famiglia E a un certo punto Questa ragazza Che adesso è laureata In medicina Straordinaria Cleo mi ha detto Ma senti Io vivo così Completamente Di tempo Pausania Quindi anche Un piccolo paese Della Sardegna Io vivo Al femminile Così Da quando avevo 8 anni Mi sono sempre sentita così Canto nel coro Femminile Voglio avere L'autorizzazione Adesso A 16 anni Perché quando Mi iscriverò All'università Voglio che i miei compagni E le mie compagnie Di università Non sappiano Che io Sono nata Biologicamente maschio Quindi voglio Entrare all'università Senza subire Nessun tipo Diretto o indiretto Di discriminazione E soprattutto Voglio poter Prendere Gli ormoni A partire Dai 17 anni Perché Non voglio Che quando arrivo A 18 A 20 anni Deba fare 20.000 interventi Chirurgici Per femminizzare Il mio corpo Certo Perché più vai avanti Perché più vai avanti Certo Bisogna vedere La specificità Del caso Allora io L'ho accompagnata Il giudice Ha fatto Una straordinaria Sentenza E vado a chiudere In cui ha detto Ha 16 anni Ma intanto 18 anni Maggiore età L'abbiamo stabilito noi E il giudice Fa una bellissima Rassegna Sul fatto Che a 16 anni Oggi i ragazzi Possono fumarsi Le sigarette Bere Eccetera E secondo Quel giudice Andava valutata La capacità Di capire La conseguenza E l'irreversibilità Del suo gesto E 16 O 18 anni Era una soglia Di legge Ha valutato Che c'aveva Quella capacità Lì Poi se tu a me Mi dici Come avvocato Lassissi un bambino Di 12 anni Davanti al giudice Ti rispondo No Perché Non c'è manco Questa possibilità Perché prima Dei 15 16 anni Davanti al giudice Non ci si arriva Non ci si arriva Davanti al giudice Ma si fanno I trattamenti Perché i trattamenti Di blocco Della pubertà Si fanno a 10 anni A 11 anni E si sono accorti Anche i Diciamo I teorici Del gender studies Quelli più avanzati Quelli anglofoni Che qualcosa Stava non funzionando La più importante Clinica londinese Che faceva Queste cose La Tavistock Che si occupava Dei bambini Chiuderà a marzo Chiude Chiude Perché hanno capito Che quello che stavano facendo È follia Perché quello che si fa E che non è stato detto È che un bambino Proprio perché Non deve prendere Le sembianze Viene bloccato Nella sua bobertà Per una decisione Presa a 10 anni 12 Io mi chiedo Quale 10 11 12 Quello che ti pare Un ragazzino Di 12 anni A cui viene iniettata La triptorelina Secondo me Subisce una violenza Criminale Non c'è altra definizione Qualsiasi cosa Mi dica Un ragazzino Di 12 anni Se gli inietto La triptorelina Subisce Una violenza Criminale E il movimento Dei De-transitioners Che esiste Ed è soffocato Nella sua Comunicazione Nel mondo È fatto di una marea Di ragazzi e ragazze Che dicono Ma come avete potuto Permettere A me Che avevo 12 13 14 15 anni 15 anni Di fare Delle procedure Di questo genere Che poi portavano Le mastotomie Le cose irreversibili Ma come Vi è venuto in mente Di accettare La parola Di un bambino Di un ragazzino Di un adolescente Come parola Su cui costruire La diagnosi Di disforia Di genere Ma io ho passato La mia fase Da femminuccia Ma mia sorella Passò la fase Da maschiaccio Le cose si riallineano Nella società Normale Nella società Ideologica Indottrinata Dove ti mettono Tutti i giorni In testa Che se tu Hai un disagio Forse il disagio È di quel genere Là E tu genitore Che non allevi Quella condizione Sei colpevole Di essere appartenente Al mesozoico Invece di far andare Naturalmente Le cose Perché tutti Attraversano fasi Durante le fasi Dell'infanzia E dell'adolescenza Che appartengono Alla conoscenza Del sesso Proprio Opposto Beh lì Secondo me Quando intervieni Con fiale Peraltro costosissime Peraltro adesso Messe a carico Del servizio sanitario nazionale Cioè Della fiscalità generale Cioè Le paghiamo tutti noi Fai un atto Che non si può Che definire Criminale E questa cosa Non la dice Maria Di Nolfi Questa cosa È verificata Dalla valanga Di casi Di detransitioner Che ti dicono Ma tu mi hai fatto St'operazione Che è devastante Nel mondo Ma come ti è venuto in mente Di fare questa roba qua Esiste Ed è una letteratura minore Detto questo Tu hai tre figlie La vostra è sempre maggiore E quella degli altri È sempre minore Ma come funziona Sta cosa Ma tu hai tre figlie Siete duemila A fare le unioni civili Duecentomila a sposarsi Ma siete sempre E più voi Ma come funzionano Sti numeri vostri No la domanda A tue figlie Risparmiatamela Risparmiatamela Che cosa fate La domanda solida Idiota Se è tua figlia È lesbica Se è tua figlia Vuole fare trans Questa L'intelligenza Il rispetto Della tua intelligenza Ti impedisce Di fare questa domanda Però sei stupida Eh dai Mario Eh no È una domanda Da stupidi È quella fatta dai social Ma non te l'ha ancora fatta Ma non te l'ha ancora fatta Fagliela fare Ma non te la fa Ascoltala Ma ascoltala È una domanda Che Che proprio sta mostrando Che tu Non empatizzi Con nessun genitore Che oggi ha Un figlio O una figlia Che gli dicono Papà Mamma Io non mi sento Di appartenere A 12 anni Non empatizzo No Vado da quelli E dico Siete matti Se fate L'iniettale La dittorelina Siete matti La chiave Casa No non chiudo in chiave Gestisco quello che c'è da gestire E in 27 anni da genitore Ti assicuro che ho gestito Di tutto nella mia vita Quindi La domanda sulla mia famiglia Io non l'accetto Ho gestito di tutto Questa cosa qua Non l'hai gestita E non ti puoi permettere Io lo faccio Amito? Tu non ti puoi permettere Di andare A dire Ai genitori Che oggi Stanno gestendo questo problema Che sono tutti dei matti Se iniettano la dittorelina Non sono matti Sono matti e criminali Matti e criminali E questa cosa qua Una ragazzina Di 12 anni È una follia Se siete dei genitori Di persone trans Denunciatelo per diffamazione Denunciatelo per diffamazione Vi assisto io Perché vi sta diffamando Vi sta dando dei violentatori Ma sto tipo di atteggiamento di violenta e minacciosa Di intimidazione Io la vivo da 10 anni È così Scusami Ma secondo te Se io ero uno Che si faceva intimidire E erano ancora in piedi 400.000 processi hanno provato a farlo sono mai riusciti a fare gli amici tuoi sono già stati condannati gli amici miei, non me per questo non volete parlare con me per questo non volete parlare con me vediamo parlare con me e venite in tribunale e giochiamo a sto gioco vedrai che arriverà però questa intimidazione dimostra che avete paura dell'argomento dimostra che avete paura dell'argomento perché è una violenza non è nient'altro che una violenza su un bambino di 12 anni preadolescente non può che essere un'argomento non può essere definita altrimenti e non da un ideologo non è che sono i genitori che gli fanno la puntura si va in una struttura sanitaria e lo decide una equipe di medici con un comitato bioetico quindi non lo decido io e nemmeno i genitori mettiamo un punto su questo tema sicuramente possiamo dire è un tema complesso cioè io stesso no perché se lo dici devi essere denunciato è sempre lo stesso meccanismo ma scusatemi io ho periodo se lo dici ti denuncio se lo dici devi andare in galera e questo l'insopzione ma no ma Mario ma è ovvio che dire dire sei criminale è un po' estremo Didier Lezanne Didier Lezanne cosa aveva? di sostanziale Adinorfi vuoi continuare a sostenere quelle cose? finisci in galera vedi un po' se vuoi continuare o no vedi un po' se vuoi continuare o no questa formula è violenta e insopportabile io non sosterrò mai che quello che voi sostenete non lo potete affermare io non sto sostenendo niente voi sostenete non dirò mai per quello che hai detto ti porto in galera mai voi invece voi invece volete la galera volete l'impossibilità di esprimere alcune tesi tu vuoi poter dire che tutti quelli che vogliono che devono essere violenti nei confronti di chi li sostiene guardandoli ai ceppi guarda in una prova contraria nessuno a lui gli ha dato dello stupido lui ha dato della stupida a me ho detto questo se dici questo sei stupido fatemi parlare fatemi parlare posso dare il mio parere perché io sto nella via di mezzo io stesso non darei dei medicinali se tu mi dicessi ho dei figli ok e mio figlio o mia figlia si trova ad avere una una disforia di genere ad affrontare una cosa del genere io cazzo a 12 anni probabilmente non glieli darei affronterai un percorso con lei terapeutico e poi vai dentro in bocca quelli che ti dicono però bisognerebbe dargli ai di Federico e che fai tu la poi e che fai però posso dire però rivendico anche una cosa stiamo dicendo che queste equipe che sono iper specializzate comunque posso dire una cosa tutti siamo d'accordo su questo ed è importante che chi ascolta lo sappia se tu sei un genitore e arriva da te tuo figlio minore e ti dice mamma io mi sento poi tu conosci tuo figlio è una delle cose più paurose che possa succedere a un genitore perché davvero è complesso è una cosa complessa da gestire perché devi tenere in considerazione la paura che tuo figlio o tua figlia possano cambiare idea però allo stesso tempo non vuoi ledere il suo benessere psicofisico devi essere accompagnato viene anche ipermedicalizzato quindi io non lo auguro a nessuna attenzione è una cosa molto complessa quando vengono da me i genitori e mi dicono però Katie posso dire una cosa uno può essere anche sentirsi libero di dire guarda io per me non è vero ti denuncio uno può essere libero di dire io posso sentirmi libero di dire guarda io per i miei figli sarei titubante a dare dei farmaci senza essere cancellato dalla società ovvio ma scusatemi ma scusate ho detto poco fa che la prima volta che dovevo assistere una ragazza minore trans in tribunale ho detto beh io ho mille dubbi vediamo che poi ho analizzato tutte le cose mi sono trovata lì dentro io sto dicendo questo ma come si fa a parlare sulla pelle delle persone se non si vive quella situazione lì io empatizzo con quei genitori che probabilmente non sanno cosa fare vanno in un centro che è l'unico il migliore in Italia al careggi ed è un centro pubblico lo vogliamo dire ed è un centro riconosciuto dall'istituto superiore di sanità vanno lì e si fanno accompagnare dagli specialisti poi alcuni dei quali gli diranno si devono fare i bloccanti chiamiamoli così si blocca si postone poi qua ci entriamo in una cosa medica scientifica che non abbiamo competenze né io né te né Mario assolutamente però voglio dirti che cosa deve fare un genitore ma che fa l'ammazza lo butta fuori come da etene lo buttiamo giù dal monte se c'hai un figlio trans o una figlia trans minore dovrai affrontare il tema certo non puoi dire chiamiamo Mario Di Nolfi così ti fa capire che è tutto un indottrinamento magari però potresti offrirti di fare questo vediamo se andando in giro a parlare con questi genitori come dire i loro figli smettono di essere trans grazie al fatto che gli spieghi molto spesso vengono queste storie arrivano da contesti già indottrinati purtroppo siamo tutti indottrinati questo è il vero problema che chiunque abbia quella condizione non si mette in mano a quella situazione perché è una situazione ordinaria quella della possibilità di avere una fase di cambiamento di gioco 13.000 abitanti in provincia di Trabani mia madre e mio padre sono le persone più eteronormative eterosessiste di questo mondo quindi nessun indottrinamento nessuno ma io non avevo mai nemmeno sentito dire che cosa fosse una persona trans o una persona omosessuale non l'avevo nemmeno mai vista niente secondo te io sono il frutto di un indottrinamento io penso che a 12 anni se tu avessi detto quello a Castellammare del Golfi i tuoi genitori sarebbero andati avanti e non ti avrebbero portato a Careggi molto semplicemente e credo che sia una cosa giusta io l'ho detto a 12 anni a 12 anni io l'ho detto e mia madre oggi mi dice se fosse esistito nel 1992 non esisteva niente ma mia madre mi dice se fosse esistito qualcosa o qualcuno che poteva aiutarmi a capire perché mia figlia era sempre così infelice e depressa e pensava a 13 anni di suicidarsi io ci sarei andata mia madre mi dice così perdonami io dico ai genitori non date retta a queste cose che sono però io ci sono passata con la mia pelle io non vengo a dire a te come dei padre non iniettate la triptorelina nei vostri figli minori è un errore folle che il mondo sta valutando la clinica più importante che faceva queste cose la chiudono e quindi forse in Inghilterra in Inghilterra in Italia non la iniettano i genitori quindi verificate tutto quello c'è da verificare guardate cosa si significa nel movimento dei The Transitioner che hanno subito questa roba da ragazzini e ai genitori che è vero vanno in enorme difficoltà se arrivano queste storie e dico ci vuole calma e gestire la difficilissima fase dell'adolescenza di questi tempi dei nostri figli con grande calma e adorevolezza senza farsi indottrinare dalla moda del momento perché non è mai stato fatto prima bloccare la pubertà dei bambini e non si farà tra poco quando verranno proclamate illegali queste pratiche barbare in tutto il mondo quindi sei diventato anche profeta sì sì questo ve lo dico per certo voglio vedere quanto durerà questa follia tuttologo e profeta allora volevo aprire una piccola prendesi sul dd alle zanne che tu hai detto ah ci volevano rincarcerare ma sì ma veloce veloce volevo smaltire era bellissimo che eri convinto che passasse capito questa era la cosa eri proprio convinto convinta pensa che coglione scenette come erano su vatici che facevate le mani che cosa c'era che cosa facevi no io non ho mai amico mio amico mio io non facevo mai le mani no io sempre in prima linea entrincea volevo spiegare cosa a me dava fastidio rispetto al dd alle zanne e alle vostre posizioni cioè io non sono mai nemmeno se tu vai a vedere non sono mai nemmeno entrato nel merito di cosa c'era scritto all'interno del dd alle zanne a me la cosa che mi disturbava è che un disegno di legge che doveva avere un suo processo democratico che succede sempre veniva ostacolato da un singolo che si chiamava Ostellari cioè questa cosa qui per me era inconcepibile tu adesso mi dirai queste sono cose che nella politica succedono ma va bene il fatto che succedano come dici tu nel nazifascismo non è che era tutto giusto cioè perché un singolo deve ostacolare il processo vitale naturale di un disegno di legge che deve essere votato non solo non solo succedono ma sono tecniche parlamentari io penso tu abbia a cuore la storia di Pannella di Bonino dei Radicali quelli facevano interventi di 18 ore per non far approvare provvedimenti facevano si chiama filibustering ed è un atteggiamento quando sei in ostilità rispetto a un provvedimento di legge io ho fatto il deputato fai qualsiasi cosa per fermarlo e se ci sono le condizioni politiche per fare anche azioni di filibustering le fai in questo secondo me hai scontato una non conoscenza della storia parlamentare di questo paese la storia parlamentare è piena zeppa di operazioni di questo genere il tema era la sostanza del DDL perché c'è stata quella forma di resistenza io la chiamo resistenza perché a un certo punto la pressione è diventata enorme anche grazie a personaggi come te che pesano moltissimo i social però vedi come quanto è difficile far passare la mia comunicazione non era voglio che passi il DDL io volevo solo che venisse votato punto poi la potete essere contentato perché è stato votato poi sono stato contentato è stata votata solo la tagliola la tagliola servita a votare per dire no quindi su questa è un'altra cosa che io chiederei a chi sostiene le tesi opposte alle mie di accettare la democrazia non vale solo se si vince io tante volte perdo tante volte vinco ma certo la democrazia vale se il DDL viene bocciato la volontà popolare che si esprime attraverso il Parlamento l'ha bocciato non sono stati i cattivi i poteri e chissà che quando passa la legge Cirinna io ho fatto le piazze contro la legge Cirinna sono andato con i Family Day ho riempito Circo Massimo e San Giovanni non due piazzette ho perso ho dovuto prendere atto che ho perso ma io sono d'accordo con te quindi il punto però qual è che io legittimo l'avversario cioè ho perso la posizione va bene il DDL Zan all'avversario lo vanno in carcere e questo è il nodo della questione è l'elemento cruciale perché nessuno è a favore della violenza nei confronti degli omosessuali come è ovvio non un pazzo potrebbe avere questo andando oltre tu sei d'accordo su una legge sull'omotransfobia? no perché già c'è ogni norma di questo paese che dice che se dai un cazzotto a me o dai un cazzotto a lei e lo dai a me perché sono ciccione e a lei perché non ti piace la capigliatura verrai condannato per lesioni e in aggiunta subirai l'aggravanti per i futili motivi che però è un mezzo e allora questo è normale se invece fai una differenziazione per cui il cazzotto a lei è punito più gravemente del cazzotto a me ma tu lo capisci che stai costruendo qualcosa di sbagliato giuridicamente sbagliato lo sai dovrebbe essere dovrebbe essere così che l'aggravante dei futili motivi dovrebbe essere applicata per un mezzo per metà della pena aumentata fino a metà per tutti quei reati che vengono commessi in ragione di una caratteristica personale di qualcuno ma hai ragione di futili motivi infatti si chiamano così va aumentata perché se Mario viene vecchiato perché è grasso o io perché ho i capelli bianchi o tu perché che ne so sono fede esatto una tua caratteristica personale esatto io penso che invece e questo è un tema su cui bisogna discutere io non ne parlai molto anche con Alessandro Zanni dissi secondo me invece va estesa a ogni caratteristica personale perché oggi i ragazzini sono vittime di bullismo anche solo se sono un po' sovrappeso un po' sottopeso e quindi se proprio noi vogliamo dire che picchiare qualcuno per una sua caratteristica personale è sbagliato bisogna farlo pure se uno ha i capelli rossi e le lentiggini se è omosessuale se è trans eccetera perché si allargano le maglie così la verità è che oggi quello su cui noi dobbiamo essere tutti d'accordo è che nessuno deve essere picchiato per una delle sue caratteristiche personale a me non me ne frega niente ragazzi secondo me avete trovato un punto d'incontro ragazzi compiano reati per futili motivi futili vuol dire motivi veramente cioè del cazzo aumenta la pena l'aggravante bisogna aumentare la pena perché tu non puoi aumenti l'aggravante siamo d'accordo che come è stato non puoi tollerare che uno si metta a picchiare la gente perché non mi piace come sei vestito non c'hai le Nike o sei grasso o sei biondo o sei coso non si può accettare questa roba qua non puoi accettare che picchi la gente questo è il primo principio però il movente se in più il movente è totalmente futile ovviamente questa cosa deve essere punita in maniera grave e allora vedete che abbiamo trovato l'accordo oh ma che bello dai su dieci argomenti uno buono facciamolo insieme dai gli unici a pensare che approvassero il DDL e Zanne eravate voi perché pure io non credo ne avevano mai provato tanti tanti io andavo negli studi televisivi ero solo perché nessuno voleva venire a fare la parte mia diciamo e quindi ero circondato la prima volta che io sono stata audita in Parlamento era il 2005 avevo 25 anni aveva fatto la proposta di legge a Titti e Simone credo che fosse la tua legislatura e la prima c'era ministro dell'interno Amato e la prima audizione la seconda la terza la quarta la quinta sono stata audita in Parlamento su proposte di legge contro l'uomo transfobia talmente tante volte che oramai che sapevi no ma più che altro torno a ripetere già il DDL secondo me è vecchio rispetto a quello che servirebbe oggi ha senso un reato commesso per futili motivi deve essere punito con un aggravante che secondo questa cosa si fa in 5 minuti peraltro da un punto di vista politico però bisognerebbe farla dai facciamola facciamola ragazzi dai dai ce la possiamo fare se le facciamola le leggi le fai tu comunque le leggi votate giusto per difendermi ho un piccolo moto d'orgoglio ammetto la mia ignoranza sulla storia parlamentare io continuo comunque a non ritenere opportuno che un singolo ostacoli no guarda l'andamento sicuro che se farai il parlamentare ti lo auguro mai nella vita ti giuro quando entri in commissione vedi che una legge la puoi bloccare se ti metti a fare qualcosa non me ne frega niente non mi interessa non sarà mai non dire mai mai dire mai mai dire mai nella vita lo so non mai dire mai ma ad oggi ti dico no poi con il seguito che hai ti dico no ad oggi ti dico no sai quanti ti corteggeranno prima o poi ma sai quanti mi hanno corteggiato lo so allora comunque vabbè volevo invece andare su vabbè volevo questa è un argomento diciamo veloce poi volevo cambiare argomento andare all'argomento un po' chiesa che è un po' chiesa cioè lì sei fortissimo cazzo non so prete eh però lì ci lì ci spachi il culo secondo me allora no transessuali nello sport agonistico ah dai su mi è stato vietato quindi non è nemmeno un dibattito non è nemmeno un dibattito non è vero perché alcune sport hanno tutt'oggi però dai la federazione olimpica eccetera eccetera ti ha detto vedremo vedremo quello che è però lì si dimostrava l'irrazionalità dell'affermazione che poi è contestata anche da molte femministe come che peraltro ben sa che la donna transessuale sia donna questo è il punto questo è il punto cruciale che molte femministe contestano persino arcilesbica insomma ci sono molti del mondo non mio mondo mio è fin troppo ovvio che dice cos'è una donna c'è stato un bellissimo documentario di Matt Walsh che io suggerisco di guardare per capire il tema ovviamente io non sono affatto d'accordo le sorelle di arcilesbica che saranno 200 in tutta Italia portano è la verità con le loro posizioni al transiste si sono decimate loro stesse e comunque come litigano però già sono pochi ma litigano intanto non siamo pochi siamo tra 10 siamo tra il 10 e l'11 per cento della popolazione però 200 mila a mille come funziona questa cosa quante persone lgbt ci sono in Italia matrimoni verso studiore civile è tanto semplice non mi sembra difficile ma che c'è ma scusa ma perdonami ma le persone sono valutate solo in base al fatto che si sposano o no tutti chiedono si sposano infatti anzi è una porzione minimale il 10 per cento della popolazione questo paese è bellissimo in cui raccontare che lo 0-1 diventa il 10 moltiplicarlo per cento ma che significa lo 0-1 200 mila rispetto a 2 mila è 0-1 è matematica quella non è che si può discutere poi dopo puoi dire che invece è moltiplicato per cento ma non è credibile poi chi ci crede per carità vabbè andiamo avanti tema religione comunque no scusate io lo voglio dire perché a me questa cosa dentro la mia testa le cose che dice Mario mi rimbombano strane allora l'indottrinamento è talmente forte esatto e poi però siamo quattro gatti ma allora se l'indottrinamento funziona o non funziona perché a sentire dire te no perché lui dirà sono pochi ma sono potenti funziona sui ragazzini questo è il problema a sentire te praticamente il brainwashing sui giovani siamo tutti froci perché a sentire te è una questione no abbiamo indottrinato tutti è un mondo meraviglioso di lesbiche sono tutte lesbiche le donne volete indottrinare come dice voi da dieci anni hai detto perfettamente da dieci anni quindi il problema è il rapporto con le giovani generazioni e tu non hai idea di che cosa significa avere una relazione con una donna che non è diciamo certa del proprio orientamento sessuale quindi io voglio solo donne con me voglio solo donne proprio che sono o bisessuali o lesbiche convinte non voglio gente indottrinata è chiaro? cioè noi omosessuali non vogliamo persone indottrinate ma il tema che io prongo come ho detto prima a me dell'omosessualità e del lesbismo non me ne frega niente a me interessa la famiglia e soprattutto i figli cioè i più deboli che davanti a un indottrinamento possono essere in che modo la mia relazione possono subire il brainwashing perché ci sono personaggi di enorme peso che possono entrare nel loro immaginario e costruire una dimensione che a mio avviso è pericolosa del rapporto che invece è più sano con la sessualità e non dico solo Fedez però per me io ho un rapporto alternativo con le idee ma dico con la pornografia non so qui sarà stato sicuramente ospite un Rocco Siffredi che non ce l'abbiamo mi ha pure insultato ma voi quindi guardando questa puntata voi ragazzi e ragazze state diventando lesbiche no ma guardando questa puntata no perché io ho un sacco di potere su di voi vi sto indottrinando che questa è la roba buona che questa è la roba buona e ad inorfi è il mesozoico qualcuno comincerà a pensare che forse me lo dice la star musicale me lo dice Inter me lo dice il social me lo dice ragazzini devastato tieni Leone Vittoria lontano da me no dal porno ecco dal porno posso dirti ti è blocca fai quello che io ho proposto da tempo la black list sui siti porno non fare in modo che la loro il loro immaginario sessuale si formi con la sessualità pornografica perché è follia quella roba lì tu ci vai sui porno quando ero ragazzino adesso adesso no ma ha 52 anni ancora devo smanettarmi ma un seghino te lo farai ma io ho mia moglie io ho mia moglie ogni tanto un seghino me lo faccio vai sul porno ma certo ma non ci credo ma che cazzo poi tutte le donne che vuoi faccio mio amore sono sposato appunto allora bravo so fedez è sorprendente monogamo si lancia dalla torre per i figli e non devo iscrivere al popolo della famiglia però ogni tanto mi seguo anche anche tu ti farai una sega ogni tanto e c'ho bisogno al limite c'ho bisogno di cose folli ah cioè vai per immaginazione ragazzo come facci ma che sbatti Mario cioè devo star lì a pensare ma è molto più bello infinitamente più bello ma vai ci cerchi proprio da maschi ragazzi la nostra formazione sessuale è stata straordinaria grazie al fatto che non esistesse la pornografia con la statua di Francesco Papa Francesco in mano io faccio coming out non ho mai visto un porno in vita ma davvero ma che cazzo non è una cosa impossibile non ho mai visto un porno anche perché sono brutti forti io sono anche iscritto a dei siti specifici delle categorie perché ci si scrive scusa c'è pago degli abbonamenti però tu mi vuoi dire che il sesso wow che si fa perché mi piacciono delle categorie specifiche e ci sono dei siti e pago certo io che volevo essere fede bippalo 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 ve lo dico anche il mio preferito si chiama è gente che fa taglia taglia no bippalo bippalo taglia 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 l'azione cattolica andiamo avanti però volete dirmi che quel sesso della pornografia è un sesso no infatti a me piacciono gli amatoriali quindi a me piacciono le cose vere capito senti volevo parlare con voi del concordato chiesa stato perché oggi ha ancora ragione di esistere perché nella costituzione repubblicana esattamente come la definizione di famiglia dell'articolo 29 è ancora nella costituzione repubblicana o si cambia la costituzione repubblicana che secondo me invece è la più bella del mondo come si dice e va mantenuta oppure ci si tiene quello che c'è scritto io penso che visto che il concordato non è quello del 29 ma quello rinnovato dal cardinale Casaroli e da Craxi nel pontificato di Papa San Giovanni Paolo II quella nuova carta perché quello del 29 con chi l'hanno fatto con fascisti purtroppo con con il Benito con il Benito poi con Craxi che non è Benito ma non è ma chi somigliare no è un leader socialista di sinistra grande grande onesto diciamo dimenticavo l'anima grillina di Fedez questa volta farò come a Dinolfi le norme non sono tutte giuste perché nell'anzifascismo le norme non sono tutte giuste per chi non lo sapesse il concordato è un accordo diciamo bilaterale tra due stati in questo caso dal nostro stato e lo stato vaticano io sono perché alcune cose che sono contenute nel concordato vengano in qualche modo superate e in parte sono state anche superate vi faccio un esempio ma perché un prete pedofilo deve essere sottoposto a un processo dentro il Vaticano e non a uno davanti allo stato italiano ora la Cassazione ha detto che lo stato italiano può anche processare un prete pedofilo in più il Papa fa processare tutti quindi sembra che la questione sia risolta ma io posso posso ritenere no non è risolta perché io no perché io posso ritenere ma io posso ritenere che alcune pene del Vaticano non siano sufficienti ah sì se vuoi la pena di morte no no non la pena di morte c'è un prete pedofilo che nel 2016 viene condannato dalla Chiesa a non poter avere più a che fare quindi il suo sacerdozio con i minori e basta e poi deve stare in una struttura di recupero dei predi pedofili che io già ho scoperto esistere quindi nel nostro territorio che cattivoni quelli del Vaticano le strutture di recupero dei predi pedofili poi per fortuna la procura ha indagato ha detto attenzione qua secondo me a questo pedofilo bisogna dargli evidentemente un processo davanti alle leggi dello Stato Italiano un'altra cosa che mi dà un po' fastidio ma perché la Chiesa deve pagare l'Imu la metà o l'Imu solo su una parte lotta a Chetty i mobili quando sono sul nostro territorio mentre noi tutti comuni cittadini cattolici non cattolici dovemmo pagare l'Imu sulla seconda casa lo dobbiamo pagare tutti e allora a me sembra che visto che il patrimonio della Chiesa Cattolica è un patrimonio cospicuo immobiliare il concordato lo vogliamo tenere quelle due tre cosettine peraltro continuiamo a pagare sanzioni all'Unione Europea che ci dice che esentare lo Stato Vaticano dal pagamento dell'Imu non si può fa perché è un favore che stai facendo a un altro Stato di non fargli pagare una tassazione quindi mi spiegate queste due cose cioè voglio dire per me il concordato ve lo potete pure tenere cioè mi sembra che le cose che abbiamo concordato non le stiamo rispettando secondo voi perché l'hanno messo sto concordato in Costituzione la domanda è che ti pongo io ma se abbiamo concordato delle cose perché non le stiamo rispettando no no stiamo pienamente rispettando io dico noi abbiamo un concordato che fu voluto in Costituzione addirittura da Palmiro Togliatti cioè dal più mangiapredi che esistesse in quella stagione fu il partito comunista a volere l'intesa rispetto al concordato che come hai ricordato è Cardinale Gasparri non onorevole senatore Gasparri eh Cardinale Gasparri Mussolini quindi un atto fascista e poi abbiamo accettato di rifarlo in un altro tipo di condizione storica 60 anni dopo abbiamo fatto di nuovo tutta la trafila e l'abbiamo accettato in Costituzione l'abbiamo ratificato con le Camere riunite che hanno votato perché che fa sta Chiesa da avere questa condizione particolare sì però tu ometti che sono passati 43 anni da quando l'abbiamo ratificato entriamo nel merito noi ci diamo la Chiesa secondo me è fermo non sono prete non sono avvocato della Chiesa ho tutte le mie questioni e dubbi che se fossero pensi su piano ecclesiale diventerebbero persino noiosi ma la Chiesa è diciamo pagata un miliardo di euro l'anno ok un miliardo di euro di donazioni no di 8 per mille un miliardo di 8 per mille 8 per mille di un miliardo così metto in piatto un'altra cosa che viene contestata un miliardo di 8 per mille che serve a pagare circa 119 mila sacerdoti che nelle 29 mila parrocchie un miliardo cioè niente niente zero è un miliardo per tutto questo ci dimentichiamo che esiste una banca che si chiama banca dello Ior però un miliardo è quello della Chiesa italiana noi siamo concordati che la Chiesa italiana vogliamo raccontare i rapporti dello Ior con un signore che si chiama Sindona vogliamo raccontare lo scandalismo sulla Chiesa è un'altra di quella roba è abbastanza profonda esistono altre proventi più formate di te ma assolutamente però possiamo asserire con certezza che ci sono altri proventi oltre all'8 per mille che arrivano dalla Chiesa posso dirti con certezza che la Chiesa è un aggregato di persone e che nella Chiesa che è un aggregato di persone ci sta dentro anche il male inevitabilmente come in tutti gli aggregati quindi è un aggregato che dura da due millenni e in due millenni di stratificazione di potere patrimonio tutto c'è anche il male certo c'è anche il male quindi è perfetto questa cosa non la nego poi ognuno la declina come vuoi a casa orlandica ognuno si sceglie la sua specifica diciamo così c'è però una questione incomprensibile non so quando andremo in onda quindi di domenica un tot di popolazione tutte le domeniche misurata adesso in calo perché sono vanno a vedere lui no no vanno a messa scusa mi pensavo che andavano sotto il balcone suo a seguire quei 119 mila di cui ogni volta parliamo del prete pedofilo ma quei 119 mila fanno altra roba con i suori con i religiosi con i frati con i monaci quella gente lì che regge circa 30 mila parrocchie in giro per l'Italia sempre al costo di un miliardo cioè una spesa di Di Maio per fare il commissario UE del Golfo Persico cioè niente insomma tutta sta gesta moltitudine di gente quando tu e ovviamente non è roba che abbiamo mai sperimentato non sai dove andare a sbattere la testa perché non sai dove andare a sbattere la testa non bussi al ministero della solidarietà che non esiste non bussi al sindaco Sala che c'ha da andare a scala non bussi a nessun'altra realtà quando sei veramente con le pezze al culo che non sia una chiesa una parrocchia una carita diocesana un contesto dove verso gli ultimi senza chiederti chi sei perché lo sei cosa fai cosa hai fatto te li trovi il piatto di minestra l'aiuto la questione questo è un dato certo sono due dati che devi mettere insieme questa roba è dentro il cuore di dicono 15 milioni di italiani che vanno a messa tutte le domeniche benissimo pochi minoranza benissimo ma sono la struttura portante a mio avviso di questo paese che regge su una valanga di persone che vengono sempre sporcate i sacerdoti con il prete pedofilo senza che nessuno mai si vada a interessare perché ce n'è stato solo uno che ripeto sono 119 mila che fanno il servizio quotidiano poi pretendiamo il battesimo pretendiamo la cresima pretendiamo il matrimonio e pretendiamo il funerale anche se ce n'è mai fregato niente perché pure se non ce n'è mai fregato niente il rito lo vogliamo e questo va oltre 15 milioni a gratis va oltre certo il battesimo è gratis il matrimonio è gratis è assolutamente gratis se poi uno vuole fare il dono la donazione la fa ma è assolutamente gratis non c'è un listino prezzo il sperimento posso dare testimonianza diretta il tutto questo lo pretendi perché non è che dici sai mi ha finito se vuoi sposare in chiesa Vittoria mi ha detto che mi voglio sposare in chiesa vabbè Mario ho capito taglio corto però ho capito sta roba qua ho capito sta nel cuore della gente è la quotidianità di tutti posso dire una roba a Mario dalla nascita alla morte ma è incredibile quanto ti si scaldi il cuore quando si parla di chiesa e quando si parla di gente omosessuale non te ne freghi un cazzo ma proprio c'è ma non è vero perché anche l'omosessuale in chiesa è accolta però posso dire una cosa anche l'omosessuale hai ragione perché io frequento la comunità ecclesiale del piccolo bambino vedi e non è certo l'espinta dalla comunità ecclesiale no no infatti sono molto più l'espinta da te che dalla comunità ecclesiale ma non è vero ma raga ma possiamo fargli pagare le tasse che devono pagare va bene che ci si scaldano allora gli devi da 100 miliardi ma perché perché fa tutto questo perché fa tutto questo che lo Stato non fa possiamo dire una roba tutto questo perché dentro il cuore e la vita la chiesa non le deve fare lo Stato perché il battesimo la comunione la cresima e il funerale te lo chiedono la chiesa ma perché il welfare cioè la gente che sta con le pezze al culo gli deve mangiare la caritas e non lo Stato questa è una bella domanda ma lo fa la caritas detto questo ma la verità è che lo fa la caritas lo fa la comunità di Sant'Egidio lo fanno i tanti noi gli diamo solo un miliardo gli scontiamo decine di miliardi eh sì 14 miliardi questo ci dovrebbero dare 14 miliardi vecchia roba è sempre roba l'abbiamo scontato 14 miliardi dovreste dare 100 miliardi l'anno alla chiesa cattolica per quello che 100 miliardi capito poi la gente si va a curare solo in chiesa così fanno le operazioni no ma poi c'è adesso vedere che ci sia come giustamente dici tu fanno del gran bene hanno fatto anche del gran male oggettivamente parlando tra prevalente il gran bene altrimenti le chiese ne erano frequentate non chiedevi il funerale in chiesa te ne fottevi non chiedevi il battesimo domandati domandati del calo che c'è in questo momento certo che c'è un calo però se c'è da 2000 anni e ci sono state fasi di calo in 2000 anni ma da 2000 anni sta roba è il cuore nella nostra nazione lo sai che fare un funerale fuori da una chiesa è una cosa difficile che ci sono pochissimi luoghi laici dove si può fare un funerale laico io comunque ce ne sono pochissimi già che sono bianchetto ve lo dico non in chiesa grazie però quando muori non è che c'è tante opzioni detto è non è che c'è tante opzioni è perché non credo io cimiteri laici ce ne sono a Milano ce n'è uno in Duomo ma fuori ah in Duomo fuori però ma chiesa signora sì vogliamo parlare di crocifisso nelle scuole no dai è uguale se sta discorso che male vi fa il crocifisso nella scuola se interpreta perché siamo uno stato laico Mario siamo uno stato laico stato laico è esattamente il contrario di quello che proponi te lo stato laico è laico io sono d'accordo con te non è ateo non è uno stato ateo non c'è scritto siamo uno stato ateo e cosa significa stato laico stato laico vuol dire che se c'è qualcosa che interpreta la radice del nostro popolo per esempio noi abbiamo spesso qualche volta non c'è l'effigio del presidente della repubblica e il crocifisso che sono elementi che rappresentano la nostra identità noi la nostra identità la affermiamo potrebbe essere che qualcuno sia sulle scatole mattarella però però non lo stacchi perché hanno delle condizioni di rappresentare una tua identità noi siamo quella roba là però sento un po' odore di indottrinamento io Mario sento odore di indottrinamento perché non è che facciamo le battaglie sulla foto sulla foto di mattarella e ha detto che il crocifisso in tutti gli uffici non ce deve stare quindi andiamo avanti e infatti io neanche volevo parlarne di questa roba ma non è vero ma sì oggi abbiamo fatto un'altra battaglia con una che ha dovuto staccarlo dall'aula sono cose di senza senso una cosa che mi chiedo io è a cui magari non c'è non c'è una risposta ma perché c'è una concentrazione così alta di preti pedofili secondo voi c'è una ragione è una casualità è un'attenzione è una bolla mediatica è mera speculazione è una narrazione distorta non c'è la concentrazione c'è la stessa percentuale che c'è in contesti di rapporto con i minori se vedi gli allenatori di sport piuttosto chi ha rapporti abituali con i minori purtroppo questa è una piaga e c'è una percentuale che riguarda anche la Chiesa ma la percentuale è assolutamente allineata tra i sacerdoti e le altre categorie non esiste la categoria del pedofilo esiste purtroppo una vulgata nostrana che dice il prete pedofilo e mette insieme le due parole ma ti assicuro che l'allenatore pedofilo il docente pedofilo sono infiniti esistono studi che raccontano come uno vado a fare una professione che implica stare vicino ai minori perché è pedofilo lo sapevi? no non credo che sia così però esistono studi che dicono c'è una correlazione tra il fatto che hai scelto di stare pensate che i maestri i maestri siano pedofili i maestri sono normalissimi e c'è una piccola percentuale infinitesimale di pedofili non posso dire e teorizzare non credo che esista uno studio e posso teorizzare che i maestri sono pedofili infatti nel mio immaginario ho sentito parlare più di preti pedofili nel tuo immaginario perché la mediatizzazione del tema ti si ficca nella testa queste elemenze è prete ti si ficca ma ti assicuro che se vai a ricercare anche lì anche perché il prete dovrebbe avere una vocazione casto cioè castità fare voto di castità guarda state proprio dicendo quello che dico io proprio perché nell'immaginario te lo fai santo quando rovina la polvere questo ti colpisce molto di più del fatto che se lo faccia all'allenatore delle pallavolo ma ti assicuro che se vai a cercarti il problema della pedofilia e lo analizzi veramente scoprirai che il problema della pedofilia non è la chiesa la chiesa soffre purtroppo di una percentuale che ovviamente va sradicata e portata a zero e qui lo sta facendo Papa Francesco TikTok TikTok è il primo social network per i bambini sostanzialmente ed è anche pieno di preti non sono preparato cioè cosa ne pensi dei preti su TikTok? so che vanno un po' di poco dagli influencer preti e cattolici a me non entusiasma infatti io su TikTok ho fatto una comparsata una volta ma non riesco a appassionarmi vedo che va molto nelle mani dei giovanissimi ripeto l'esperienza paterna serve proprio a scoprire tutte queste cose e che se ho capito bene ma magari siete più esperti voi di me è una sostanzialmente un social privo di interazione tu li scrolli si fanno i video però a me vedere anche da una persona non so se per un sacerdote lo ripeto TikTok sia il luogo corretto però so già che mi risponderanno coloro che lo fanno che è un metodo di evangelizzazione io non ho simpatia che è un altro modo per dire indottrinamento non ho simpatia beh evangelizzazione è evangelizzazione poi dopo ovviamente dal tuo punto di vista che non credi al Vangelo è indottrinamento però devi sapere che i cattolici non fanno quello che si fa nella maggior parte delle religioni cioè non vanno a cercare i fedeli non vengono da te di oh adesso io ti massacro tipo o islamico ma non la dicono l'idea che si ha è che ognuno fa la sua testimonianza sì però vedi ecco io lo trovo secondo me tu sei restito d'accordo con me cioè io vedo dei preti che ridicolizzano la religione in qualche modo cioè fanno in chiesa si vestono fanno i balletti la religione non è politica la religione non è sacro non conosco no cioè mi sembra una roba anche un po' di cioè uno va dal prete perché chiede un rapporto con Dio con Cristo è capito e l'idea che si vada dal prete per per fare TikTok o anche una ONG voglio dire io penso che dal prete ci vai perché hai bisogno di parlare con Cristo poi quando il tuo rapporto con Cristo è diventato quello di amicizia Cristo ti chiederà di fare delle cose e le farai perché te lo chiede lo farai in amicizia ma non mi piace la chiesa che prova a privarsi della spiritualità perché io sono convinto che invece l'unica vera forza della chiesa in duemila anni sia stata quella di aver sempre proposto una cosa altra rispetto al mondo il mondo andava a dirti sempre quello che conta è il potere il denaro la materia la chiesa ha introiettato questi mali e loro diciamo che schifo il potere che schifo il denaro infatti la chiesa ha introiettato questi mali perché è fatta da persone da persone umane che si sono fatte toccare da questo male ma alla fine regge da duemila anni perché c'è un messaggio io credo sono un credente che ha a che fare con la rivelazione di Gesù Cristo con il fatto cruciale che Gesù Cristo ti dice io sono risorto dai morti ho battuto la morte e tu puoi battere la morte insieme a me andiamo a fare insieme questo cammino di consapevolezza agli esseri umani questa cosa non viene mai detta gli viene proposto tutt'altro e secondo me la vera grande proposta della chiesa è solo questa tutto il resto è contorno poi nel contorno ci sto anch'io a fare altre cose però chi va in chiesa ha dentro questa domanda se a questa domanda tu rispondi per me la risurrezione di Cristo è una favoletta a cui credi perché ti serve perché hai paura della morte che è la risposta della contemporaneità certo e allora lì lascia perdere lascia perdere frequentare perché ti serve a fare rapporti che poi magari tornano utili io mi sono distratta 20 minuti fa raga non lo so beh beh no no per dire quanto me ne frega della della no penso che io non voglio interrompere ho solo detto mi sono distratta 20 minuti fa io non volevo interrompere la mia dimensione spirituale è molto piccola ringrazio Mario per essere stato con noi ringrazio Katie per essere stata con noi ci vediamo a una prossima puntata di Muschio Selvaggio ciao amici grazie a tutti Grazie a tutti.